Ciao papino! Come stai? Ci manchi tanto! Non puoi immaginare quanto ci stiamo divertendo con te. Forse non te lo abbiamo mai detto, ma volevamo ringraziarti per quello che hai fatto per noi. Non è facile crescere due figlie di due mamme diverse, una in Italia e l'altra in Francia, ma tu sei riuscito a creare fra noi un legame più forte di tutte le differenze. Ci hai incoraggiato ad essere due donne forti e indipendenti, trasmettendoci un grande senso di libertà. Siamo fiere di essere le tue figlie. Baci, macchi e carlo. Dai e papo! Allora Michele, io vorrei far arrivare a casa un messaggio importante attraverso di te. Tu hai avuto, come ci hai raccontato, due figlie da due donne diverse. La tua prima compagna ha detto tu e fu, quando le hai chiesto voglio un figlio, tu sei un po' folle, sei un po' matto. Sei matto. Dopo una brillante carriera come la tua hai avuto quella sana follia di partecipare al grande fratello. Allora io ti faccio una domanda. Per tutti quelli che sono schiavi e così attenti al loro protocollo, alla loro immagine, alla loro serietà, quanto è bello e quanto è importante avere nella vita una sana follia? Direi che è decisivo. Allora Michele, Davide E. Grazie a tutti erogare al Wilder. Grazie a tutti